Palazzo Citterio apre le porte e per festeggiare l'evento esce il volume Palazzo Citterio verso la grande Brera a cura di Antonella Ranaldi, Paolo Savio, Anna Maria Terafina edito da Schira. Il libro sarà presentato mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 17.30 a Palazzo Citterio, via Brera 12 Milano. Interverranno, Andrea Kerbecher, scrittore e direttore di Tempo di Libri, Lorenzo degli Esposti, architetto e autore di 1900. Milano capitale del moderno, Carolina Di Biase, Politecnico di Milano e Antonella Ranaldi, soprintendente ABAP Milano. La conclusione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione di Palazzo Citterio chiude un caso che si è trascinato per oltre 40 anni fra vicende alterne sulle quali ha fatto luce la precedente pubblicazione il caso Palazzo Citterio, Schira, Milano 2014. Acquistato dallo Stato nel 1972, Palazzo Citterio fu pensato da subito come indispensabile e aggiunta per fare della Pinacoteca di Brera un museo moderno, dotato di servizi adeguati, con spazi per le opere del Novecento che si contava di acquisire da collezionisti milanesi. La storia del suo recupero è stata alquanto complessa, fatta di incertezze, opposizioni, cause illegali, imprevisti tecnici, difficoltà finanziarie. Questo volume, ideale seguito del precedente, ne racconta l'ultimo atto che chiude, finalmente, il caso Palazzo Citterio. Il difficile percorso per consegnare il palazzo alla collettività, il progetto, il cantiere, la lunga stagione di restauri dagli anni settanta a oggi vengono documentati attraverso le molte fotografie, i contributi di Carla Di Francesco, ed ecco, finalmente, Palazzo Citterio. Caterina Bonvalsassina, il caso Palazzo Citterio, ultimo atto, Alberto Artioli, programmi, progetti, interventi, un difficile percorso per consegnare il palazzo alla collettività, Amerigo Restucci, il progetto, il cantiere, Giovanni Carbonara, una lunga stagione di restauri, Antonella Ranaldi, sotto il segno di Hermes. Il buon fine di un travaglio, la sezione dopo i lavori illustrata dalle fotografie di Maurizio Montagna e la cronologia di Anna Maria Terafina.